Siamo qui oggi noi di Interno 18 ad intervistare la presidente di un nuovo movimento che è nato a Capua il 22 dicembre del 2012, il Movimento del Sole. Questo movimento è nato perché abbiamo visto che a Capua ci sono diverse cose che non vanno, che a noi non piacciono e credo anche a diversi cittadini, visto che comunque abbiamo avuto dei riscontri anche in questo senso. Il Movimento si chiama Sole ed è un acronimo, ogni lettera ha un suo significato, S sta per sviluppo, O sta per onestà, L per lavoro e per ecosostenibilità. E sono questi i quattro punti che vorremmo portare avanti in un programma futuro se nel caso di elezioni dovessimo essere eletti. Ovviamente ci sono vari punti da trattare, già vediamo oggi in questi giorni proprio, si vede la viabilità, che cosa è successo insomma. Ci sono strade interrotte ormai già da parecchio tempo, lavori che cominciano e non si sa mai quando finiscono. Questo per dire l'ultima che c'è, qui si vede a Via Ettore Firamusca e a Piazza De Renzis, che c'è sempre molta confusione per quanto riguarda parcheggio di macchine e così via. Le scuole in cui manca di tutto, io ci lavoro quindi lo so, manca di tutto e di più. Mancano anche i fondi, un po' dovuto a questo governo attuale che abbiamo, un po' forse anche dovuto al comune per quanto riguarda le scuole comunali. Ancora diversi punti da trattare, tra i punti da trattare c'è il recupero dell'ambiente, la raccolta differenziata che non riesce ad andare avanti e sappiamo tutti quello che abbiamo pagato di Tarso. C'è ancora l'Imu che abbiamo pagato tutti e che è ritornata più alta di prima, mentre invece magari basterebbe basarsi un po' sul reddito delle persone e fare una cosa un po' più giusta. Il commercio che sta perdendo tantissimo, insomma, questi sono un po' i vari argomenti. I pensionati, soprattutto, che non hanno nessun tipo di aggivolazione. Mancano i mezzi pubblici, i mezzi di trasporto non ce ne sono per collegare la città da un punto all'altro. Per esempio, se c'è qualcuno che abita in periferia e non ha la macchina, anche e soprattutto persone anziane o che non guidano, non possono venire in centro, a meno che non abbiano qualcuno che li possa accompagnare e quindi essere a loro disposizione. Insomma, queste sono un po' le cose che avremmo intenzione di fare. Ovviamente sarebbe impossibile elencarle tutte, sono tantissime, però io spero che i cittadini si rivolgano a questo movimento per segnalarci eventuali disservizi o anche per darci delle idee nuove. Quali punti salienti sono la base del movimento? Allora, come si vede da questo cartellone che abbiamo preparato, i punti principali del programma che vogliamo portare avanti sono quelli qua segnati. Arte, cultura e artigianato, quindi riportare un po' alla luce anche le vecchie tradizioni come la fiera di San Lazzaro, la fiera di Santo Stefano, che portavano tra l'altro soldi alla città. Agevolazioni fiscali, questo come dicevo prima per quanto riguarda soprattutto i pensionati, perché certo con una pensione minima diventa difficile oggi poter vivere e affrontare tutte le spese necessarie. L'agricoltura, perché sarebbe il caso ormai di passare all'abbio agricoltura, con anche agricoltura a chilometri zero, insomma. Quindi abbiamo bisogno anche di contadini che ci vengano a dire quali sono questi problemi che loro devono affrontare. Il commercio, si vede i commercianti chiudono a Capua, si apre e si chiude una continuazione perché non riesce a riprendersi con la propria economia. La viabilità, abbiamo visto le strade, in che condizioni si trovano, sono una peggiore dell'altra. La sanità, hanno portato via l'ospedale da Capua. Ormai quello di Santa Maria e quello di Caserta sono al collasso. Si era paventata anche l'ipotesi di chiudere, addirittura anche quello di Santa Maria. Cioè, se uno sta male, arriverà già morto in ospedale. Speriamo mai di nuovo, insomma. Certo, è una cosa che non va. Ambiente ed ecologia, sappiamo tutti qual è il problema del gasificatore. Adesso verrà fuori anche un'altra isola ecologica, proprio su un percorso, diciamo, storico, in prossimità della chiesa di San Lazzaro, che è una chiesa antica, e dove sarebbe invece il caso di rivalutare tutto l'ambiente, tutto lo spazio che c'è, per riportare alla luce pure la fiera di San Lazzaro, come dicevo prima. Recupero del territorio, e questo anche è necessario perché, ripeto, ci troviamo in un ambiente molto, molto inquinato. Sia dal punto di vista dell'atmosfera, sia dal punto di vista del terreno, e così via. Lo sport a Capua è molto, molto, come dire, sacrificato. Non viene per nulla valorizzato. Gli antichi romani dicevano, mens sana in corpore sano. Quindi, credo che sia una cosa molto importante, anche per togliere parecchi ragazzi dalla strada, praticare invece dello sport. Il turismo deve essere molto incrementato. Capua potrebbe essere dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, perché abbiamo tantissimi monumenti, tanta cultura che purtroppo non viene valorizzata.